Artichok è tecnica, consapevolezza del corpo ed energia positiva. Ho scelto Artichok perché è una realtà unica nel suo genere. Ho imparato a guardarmi in modo più attento e con un nuovo spirito critico. Mi sta preparando a ciò che c'è fuori. Artichok mi ha tolto la paura, mi ha fatto venire voglia di scoprire perché danzo. Cerchiamo ogni giorno un movimento autentico e pulsante. Artichok è un viaggio attraverso il corpo, all'interno di un ambiente stimolante e accogliente. La danza siamo noi, la ricerca del movimento è la ricerca di noi stessi. Ho scelto Artichok perché mi gusto la mia danza. La sento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. don't fall in